abramo levò le tende dirigendosi nella regione del negeb e si stabilì tra cadess e sur poi soggiornò come straniero a gerar siccome abramo aveva detto della moglie sara e mia sorella abimelec re di gerar mandò a prendere sara ma dio venne da abimelec di notte in sogno e gli disse ecco stai per morire a causa della donna che tu hai preso lei appartiene a suo marito abimelec che non si era ancora accostato a lei disse mio signore vuoi far morire una nazione anche se giusta non è stato forse lui a dirmi è mia sorella e anche lei ha detto è mio fratello con cuore retto e mani innocenti mi sono comportato in questo modo gli rispose dio nel sogno so bene che hai agito così con cuore retto e ti ho anche impedito di peccare contro di me perciò non ho permesso che tu la toccassi ora restituisci la donna di quest'uomo perché è un profeta pregherà per te e tu vivrai ma se non la restituisci sappi che meriterai la morte con tutti i tuoi allora abimelec si alzò di mattina presto e chiamò tutti i suoi servi ai quali riferì tutte queste cose e quegli uomini si paurirono molto poi abimelec chiamò abramo e gli disse che cosa hai fatto e che colpo ho commesso contro di te perché tu mi abbia esposto me il mio regno a un peccato tanto grande tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno poi abimelec disse ad abramo a che cosa miravi agendo in tal modo rispose abramo io mi son detto certo non vi sarà timor di dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie inoltre ella è veramente mia sorella figlia di mio padre ma non figlia di mia madre ed è divenuta mia moglie quando dio mi ha fatto andare errando lungi dalla mia casa di mio padre io le dissi questo è il favore che tu mi farai in ogni luogo dove noi andremo dirai di me è mio fratello allora abimelec prese greggi e armenti schiavi e schiave e li diede ad abramo e gli restituì la moglie sara inoltre abimelec disse ecco davanti a te il mio territorio va ad abitare dove ti piace assara disse ecco ho dato mille pezzi d'argento a tuo fartello sarà per te come un risarcimento di fronte a quanti sono con te così tu sei in tutto riabilitata abramo pregò dio e dio guarì abimelec sua moglie e le sue serve sì che poterono ancora avere figli il signore infatti aveva reso sterili tutte le donne della casa di abimelec per il fatto di sara moglie di abramo il signore visitò sara come aveva detto e fece a sara come aveva promesso sara concepì e partoria ad abramo un figlio nella vecchiaia nel tempo che dio aveva fissato abramo chiamò isacco il figlio che gli era nato che sara gli aveva partorito abramo circoncise suo figlio isacco quando questi ebbe otto giorni come dio gli aveva comandato abramo aveva cento anni quando gli nacque il figlio isacco allora sara disse motivo di lieto riso mi ha dato dio chiunque lo saprà riderà lietamente di me poi disse chi avrebbe mai detto ad abramo che sara avrebbe allattato figli eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia il bambino crebbe e fu svezzato e abramo fece un grande banchetto quando isacco fu svezzato ma sara vide che il figlio di agar l'egiziana quello che lei aveva partorito ad abramo scherzava con il figlio isacco disse allora ad abramo scaccia questa schiava il suo figlio perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio isacco la cosa sembrò un gran male agli occhi di abramo a motivo di suo figlio ma dio disse ad abramo non sembri male ai tuoi occhi questo riguardo al fanciullo e alla tua schiava ascolta la voce di sara in tutto quello che ti dice perché attraverso isacco da te prenderà nome una stirpe ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava perché è tua discendenza abramo si alzò di buon mattino prese il pane e un otre d'acqua e li diede ad agar caricandoli sulle sue spalle le consegnò il fanciullo e la mandò via ella se ne andò e si smarrì per il deserto di bersabea tutta l'acqua dell'otra era venuta a mancare allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte a distanza di un tiro d'arco perché diceva non voglio veder morire il fanciullo sedutasi di fronte alzò la voce e pianse dio di la voce del fanciullo e un angelo di dio chiamò agar dal cielo e le disse che hai agar non temere perché dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova alzati prendi il fanciullo e tienilo per mano perché io ne farò una grande nazione dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua allora andò a riempire l'otra e diede da bere al fanciullo e dio fu con il fanciullo che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco egli abitò nel deserto di paran e sua madre gli prese una moglie della terra d'egitto in quel tempo abimelec con picol capo del suo esercito disse ad abramo dio è con te in quello che fai ebbene giurami qui per dio che tu non ingannerai né me né la mia prole né i miei discendenti come io agito lealmente con te così tu agirai con me e con la terra nella quale sei ospitato rispose abramo io lo giuro ma abramo rimproverò abimelec a causa di un pozzo d'acqua che i servi di abimelec avevano usurpato abimelec disse io non so chi abbia fatto questa cosa né tu me ne hai informato né io ne ho sentito parlare prima d'oggi allora abramo prese alcuni capi del gregge e dell'armento e li diede ad abimelec tra loro due conclusero un'alleanza poi abramo mise in disparte sette agnelle del gregge abimelec disse ad abramo che significano quelle sette agnelle che hai messo in disparte rispose tu accetterai queste sette agnelle dalla mia mano perché ciò mi valga di testimonianza che ho scavato io questo pozzo per questo quel luogo si chiamerà bersabea perché là fecero giuramento tutti e due e dopo che ebbero concluso l'alleanza bersabea abimelec si alzò con picol capo del suo esercito e ritornarono nel territorio dei filistei abramo piantò un tamerisco a bersabea e lì invocò il nome del signore dio dell'eternità e disse come forestiero nel territorio dei filistei per molto tempo dopo queste cose dio mise alla prova abramo gli disse abramo rispose eccomi riprese prendi tuo figlio il tuo unigenito che ami isacco va nel territorio di moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò abramo si alzò di buon mattino sello allasino prese con sé due servi e il figlio isacco spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che dio gli aveva indicato il terzo giorno abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo allora abramo disse ai suoi servi fermatevi qui con l'asino io e il ragazzo andremo fin lassù ci prostreremo e poi ritorneremo da voi abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio isacco prese in mano il fuoco il coltello poi proseguirono tutti e due insieme isacco si rivolse al padre abramo e disse padre mio rispose eccomi figlio mio riprese ecco qui il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello per l'olocausto abramo rispose dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto figlio mio proseguirono tutti e due insieme così arrivarono al luogo che dio gli aveva indicato qui abramo costruì l'altare collocò la legna legò suo figlio isacco e lo depose sull'altare sopra la legna poi abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio ma l'angelo del signore lo chiamò dal cielo e gli disse abramo abramo rispose eccomi l'angelo disse non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente ora so che tu temi dio e non mi hai rifiutato tuo figlio il tuo unigenito allora abramo alzò gli occhi e vide una riete impigliato con le corne in un cespuglio abramo andò a prendere la riete lo offrì in olocausto invece del figlio abramo chiamò quel luogo il signore vede perciò oggi si dice sul monte il signore si fa vedere l'angelo del signore chiamò dal cielo abramo per la seconda volta e disse giuro per me stesso oracolo del signore perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio il tuo unigenito io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce abramo tornò dai suoi servi insieme si misero in cammino verso bersabea e abramo abitò a bersabea dopo tutte queste cose fu annunciato ad abramo che anche milca aveva partorito figli annacor suo fratello us il primo genito e suo fratello buz e chemuel il padre di aram e chesed aso pildas idlaf e betuel betuel generò rebecca milca partorì questi otto figli annacor fratello di abramo anche la sua concubina chiamata reumà partorì figli tebach gacam tacass e maaca e non bene bene e bene Grazie a tutti.